La storia cosa dice? Che è un buon difensore, un buon cavaliere, perché noi dobbiamo proteggere la principessa nel castello, capite? C'è un tesoro da proteggere, lì arrivano, ci sono i draghi, che vogliono entrare nel nostro castello, noi dobbiamo difendere la nostra forza, il nostro costiere. Io devo andare, guardate, prendete un buon difensore, non arrivo mai così, mai, voi fateci caso, non arrivo mai così. Adesso lo sto a dire in posizione per queste vecchie, questo è quello di lavoro, allora dico in fondo, non così. Non gli dicono quello che devono fare, gli dicono quello che non devono fare, non così, se non è così, o ti metti per così, o ti metti per così. Anche se io, così, lo porto sempre fuori, quindi un buon difensore, attenzione, se c'è la palla, guardate, se lì è la palla, guardate, io posso scegliere di andare dritto sulla palla, vieni un attimo, e mi metto così, e questo è sbagliato al giusto. Ho sbagliato, l'avendetto. Oppure posso fare così, mi stanno capito, allora arrivo, mi viene con la palla, vieni, io mi metto così. Secondo voi è giusto così. No, perché lui mi taglia di lì, allora spostate un pochettino e lo accompagni di là. Ma istr, se mi metto così va bene? O te lo metto e mi metto, guardate, 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 guardate. Guardate, 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 guardate. Giusto o no? Noi dove lo dobbiamo portare? Lontano vicino alla porta. Lontano. Secondo voi, questo è stato, è buon senso. Ma in grado di te, grazie. Quello devo fare l'altro. Mi sto facendo vedere il metro, però solo l'inizio, di come io faremo l'esercizio. Lo iniziamo così l'esercizio o lo iniziamo con un foglietto in mano dove devono fare 3500 pallaggi. Senza chiedersi per te, che è più moderno, ma neanche Charlie Chaplin faceva così. Sto costruendo un giocatore pensante o un curatino che deve a comando fare fuori gioco o fare quello che vi dico io? Per dire, avete visto che l'abbiamo visto con i miei schemi? Cerco mano d'opera o cerco di costruire un giocatore che è autonico? È chiaro che è più difficile quello che mi sta succedendo io. L'avete visto prima, in una cosa semplice come la mia. Quando cercavano di contare hanno diminuito la naturalezza. Quello che vi dico io all'inizio così. Continua e poi diventerà più veloce. Non so se va. Questo ve lo posso dire.